Se perdi la connessione con l'atmosfera attorno a te, morirai. Non è così? Senza saperlo, la tua vita è tu contro l'universo. Il tuo unico problema è la tua struttura mentale è diventata un caos. Puoi facilmente sbrogliarla. Sadhguru, in momenti di disperazione, molti giovani iniziano a pensare di compiere il passo estremo, di porre fine alla propria vita. Su questo argomento sono state fatte molte domande. Una di queste è, molti miei amici intimi hanno tendenze a suicide. Cosa potrei fare per aiutarli a liberarsi di questo pensiero e non vogliono fare yoga? Quella è una clausola. Quindi, rispondiamo da questa estremità. Innanzitutto, cos'è lo yoga? Al momento, purtroppo, persino in questo paese, dove tutto è iniziato, l'idea che le persone hanno dello yoga, in realtà è ripresa dalla costa americana. Pensano che yoga significa contorcerti in varie posture, posture impossibili, per cui dovresti assomigliare a uno spaghetto avanzato. No, voglio che tu capisca cosa significa yoga. Yoga significa unione. Unione significa... Vedi, in questo momento, sei qui, anche tu stai respirando. Il tuo amico anche respira. Pensi? Ok. Ovviamente mangi cibo, bevi acqua. Ci sono molti altri livelli di transazioni, ma almeno queste cose molto fisiche le capisci. Senza queste transazioni non puoi esistere. Non è così? Ci siete? Quindi, in un certo senso, ciò che questo ti dice è sei solo una piccola creatura, solo un piccolo pop-up. Hai dei pop-up sullo schermo del tuo telefono, che appaiono e scompaiono. Su questo pianeta sei solo un pop-up e scomparirai. Sì. Tu pensi di essere un'esistenza individuale per conto tuo? No. Se perdi la connessione con l'atmosfera attorno a te, morirai. Non è così? Se non mangi o bevi, morirai. Non solo questo. Ogni cellula, ogni particella subatomica in questo corpo è in transazione. Se la transazione non accade, non puoi esistere per un momento. Ma psicologicamente, ti metti in un bozzolo tale per cui pensi di essere un'esistenza individuale tutto per conto tuo. Yoga significa che cancelli consapevolmente i confini della tua individualità. Perché se non cancelli consapevolmente i confini della tua individualità, allora, senza saperlo, la tua vita è tu contro l'universo. È molto mi devi ascoltare su questo. Puoi seguire il mio consiglio su questo. è una brutta competizione in cui mettersi. Tu contro l'universo decisamente avrai voglia di morire. Quando affronti una competizione così grande, non vale la pena vivere. Diventerà così. il modo in cui le persone solitamente lo gestiscono è cancellandolo un po' in modo inconsapevole. Qualcuno si innamora di qualcuno. Improvvisamente hanno aperto un po' i confini della propria individualità a qualcuno. l'espressione inglese cadere in amore. Cadere in amore è una buona espressione. Perché qualcosa di te deve cadere. Non puoi salire in amore. Non puoi volare in amore. Non puoi scalare in amore. Devi cadere in amore. Questo significa che qualcosa di te deve essere tolto. Qualcosa di te deve cadere giù. Devi fare spazio per qualcos'altro. Hai fatto un po' di yoga inconsapevole. Lui continua a non voler fare yoga? Questo anelito di diventare, di rompere i confini, se trova un'espressione di base, molto fisica, la chiamiamo sessualità. Se trova un'espressione emotiva, la chiamiamo una storia d'amore. Se trova un'espressione mentale, viene etichettata come ambizione, conquista o semplicemente shopping. Se trova un'espressione consapevole, lo chiamiamo yoga. Nella tua vita, cosa pensi? Qualunque cosa fai nella tua vita, è meglio farla consapevolmente o inconsapevolmente? Cosa ne pensi? Consapevolmente. Quindi, se cancelli consapevolmente i tuoi confini, capisci che stai costruendo inutilmente una struttura psicologica in cui ti senti intrappolato. se la cancelli consapevolmente si chiama yoga. Se la cancelli fisicamente, si chiama sesso. Se la cancelli emotivamente, si chiama amore. Se cerchi di cancellarla mentalmente, si chiama raggiungimento, conquista, ambizione, realizzazione, vittoria, questo tipo di cose. Ma tutte queste cose, quanto durano? Momentaneamente, perché è inconsapevole. Se cancelli consapevolmente i confini della tua individualità, puoi star seduto qui come l'universo, con la stessa stabilità. Ora, dove vuoi morire e andare? Perché qualunque cosa non hai creato, non hai nessun diritto di distruggerla. Non è così. Hai creato tu questa vita? Ci siete? Hai creato tu questa vita? Ne sei capace? No? Allora come vai? Il tuo unico problema è che la tua struttura mentale è diventata un caos. Puoi facilmente sbrogliarla. Devono fare gli ognuno.